Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la prima maglia del Barcellona per la prossima stagione, la 2023-2024, in edizione Player. Grazie per la visione! La maglia è fatta benissimo, mi piace tanto, il costo lo vedete qui sopra, non aggiungo altro perché comunque parla da solo. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diminuisce ulteriormente. Prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per voi è un gesto che non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione Player. E chi era? Grazie a tutti